3, 2, 1, ho cliccato? Oh io non ci credo, non ci credo, non ci credo Col pollice, col pollice, col pollice, col pollice, col pollice 3, 2, 1, e vai con lo skip Se raggiungiamo 50.000 mi piace vi porterò la ruota dello shop Quindi spenderò dei soldi con consiglio Ciao a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars E qui di fianco a me abbiamo una sedia ancora vuota Ma solo per poco perché oggi c'è qui con me un ospite prego prego può entrare Direttamente dall'Hawaii abbiamo il maestoso consiglio Salve a tutti ragazzi è stato un lungo viaggio Allora raga siamo ritornati su Brawl Stars dopo davvero tantissimi mesi Ci sei mancato per un poco ti sei preso la tua pausa estiva Sto stato in vacanza dell'Hawaii ora sono tornato Adesso infatti lo vedete è abbastanza abbronzato E abbiamo 65 Brawl Box 8 8 8 8 8 casse enormi Se andiamo sul negozio abbiamo un'offerta di 3 megacasse La casse enorme, la megacassa con i punti stellari E un'altra megacassa ben 60 gemme Abbiamo già fatto la nostra caricata di 10,99 euro 170 gemme Ma chi ha pagato? Ho pagato io, ho pagato io non ti preoccupare Che bello Quindi sei coperto nelle spese però Visto che ho speso dei nuovi soldi sul tuo profilo Quanti mi piace dobbiamo superare per questo video? Sentiamo un po' Allora qui è dura la situazione Ti dico che con mio buggino riusciamo a fare anche sui 30.000 mi piace Ma con me ne fai 50.000 50.000 Raga se raggiungiamo 50.000 mi piace vi porterò la ruota dello shop Quindi spenderò dei soldi con consiglio Risate assicurate Signori si raggiungiamo i 50.000 mi piace Ora sono tornato da Hawaii Vado a Miami e torno solo per me Ok perfetto E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Cliccando la campanellina Perché manca poco per I 500.000 iscritti Mezzo milione signori Quindi fatelo tutti quanti Ma a questo punto signor consiglio Direi che possiamo partire Ci siamo dilungati fin troppo Ok si parte Si parte Ok che sei tornato da Hawaii Che la vuoi prendere scialla Mi fai sapere quale brawler Ah si A parte raga ci siamo abbinati Con la nostra carissima camicia hawaiiana Partiamo tranquilli con i Oh non ci credo Eugenio Eugenio Oh mio dio No raga non ci credo Raga non ci credo Dalla lampada Ma dopo quanto? Dopo 5 box Raga stiamo No raga qua dovete spolliciare Qua dovete spolliciare E' il primo non è l'ultimo signori Qui usciranno altri tre brule Eh si vabbè esagerato tre brule Allora abbiamo finito i mitici Sto tremando Sto tremando Sto tremando Se andiamo tra i nostri brawler Manca 8 bit Che tra poco lo troverai Quindi è impossibile che lo trovi in i box 8 bit Piper BB Che sono due epici Quindi potremmo trovare uno di questi due E il carissimo Spike In compagnia di Corbo I due leggendari Ma io lo sai chi vorrei Chi vorresti sentiamo Vorrei a Corbo Corbo Ti piace E dai andiamo con altri E' ancora lunga la scalata E' ancora lunga la scalata Quanti raddoppiaggettoni Siamo già a 400 raddoppiaggettoni Voglio 50.000 mi piace Ok 50.000 mi piace Vi avrà sonato le orecchie Però non vi preoccupate Li raggiungiamo se vengono dei 50.000 like Ce la facciamo 50.000 Dai che ce la facciamo 50.000 Adesso andiamo con quest'altra Come si chiamano queste altre casse Queste qua a sinistra Megabox No Oh ma si imbroglia sempre Casse enormi Megabox sono quelli di più grande Comunque Brawlbox Ovvero Cassabroli in italiano So che tu non riesci a parlare in inglese Vai 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 Apri 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 Vai signor consiglio Vai signor consiglio Vogliamo qualche caricamento Ti ricordi il caricamento cosa faceva? Ti fa trovare il nuovo brawler Il caricamento Però Oh In 5 box tipo Abbiamo già trovato Un brawler mitico Io Se fossi stato sul mio account Già mi sarei ritenuto soddisfatto Devo essere sincero Però Almeno un brawler epico Signor brawl stars Ce lo dovrebbe cacciare Vada signor consiglio Bello spedito Bello spedito E a questo punto Facciamo un bel timelapse Fini ai 20 brawl box Ci può stare Qui ci vuole un timelapse Ah ok perfetto Perfetto Siamo arrivato a 20 brawl box Però Una cosa Adesso continuiamo con qualche cassa enorme Negli altri video Abbiamo fatto già due video insieme Questo è il terzo Hai sempre salutato Qualche ospite speciale Chi è il fortunato di oggi Sentiamo Signori e signori Il fortunato di oggi Che sarà salutato da consiglio Lo conoscete sicuramente anche voi Lo chiamano Cioè si chiama Cristian Ma lo chiamate tutti Samuel Camul E sarebbe mio fratello Per qualche nuovo Che magari non lo conosce Comunque Siamo arrivati Che non è famoso come lui Non è famoso Però Però Comunque Alla sua fama Mi stai denigrando però Signor consiglio Questo non va bene Questo scrivene L'ha montata lui Signori Lui Ok Siamo scesi a 9 brawl box A questo punto Ce ne andiamo nel negozio Cassa enorme Così Tranquilli Tanti punti stellari No Questi qua non è pagato da me Questi qua sono punti stellari Eh Eh Sì Ti sto spendendo E che te ne fai delle skin Non è meglio di aprirti Solo per voi ragazzi Solo per voi Però 50.000 like Se non raggiungiamo 50.000 like Non si fa più niente Allora aspetta Fermati Fermati Ti ricordi che A 5 skip Non trovi niente Mentre se hai 6 skip Non troverai uno Non te lo ricordo Però adesso Te l'ho portato in mente 3 6 skip Se c'è il numero Se qua Il computer vola 3 2 1 Secondo me non c'è niente 5 skip 5 skip Dai Beryl Tiki Il nuovo brawler Frank Brock Boh E neanche bonus extra Niente Proprio niente ci ha voluto dare Quindi Non ti preoccupare Signor Consiglio Non ti agitare Non ti preoccupare Adesso continuiamo con i 5 brawl box Però I prossimi box Te li voglio fare aprire a te Quindi scendiamo a 5 brawl box E vatti ad aprire La mega cassa di 60 gemme Allora Gemme procurate da casa Io lo voglio fare con un dito speciale Non lo puoi fare Questa ripresa non lo puoi fare Sarà censurato Mettiamoci Avete capito qual è Quello che sta a metà diciamo Vai consiglio Vediamo cosa sai fare No no non questa Prima questa qua da 60 Vai 3 2 1 Vediamo se ci porta fortuna Sto dito speciale 5 skip di nuova E raga Eugenio all'inizio ci ha proprio fregato L'abbiamo trovato subito così Di quarta E che ci possiamo fare Vabbè Cambiamo dito ragazzi Cambiamo dito Tanto ne abbiamo 5 Nell'altra mano ne abbiamo altri 5 Questo dito qua Ok Questo va bene Questo va bene Che come si chiama questo dito È anulare Anulare Mamma mia Ma è intelligente È pure intelligente Però aspetta Se non l'hanno ancora fatto L'iscrizione al canale Attivate la campanella Oh raga ma mezzo milione di iscriviti Mezzo milione Spiegatevi chi è che vi porta questi contenuti Chi ve li porta A maggior ragione con consiglio Con consiglio Chi Chi ne sono solo io Perché consiglio lo conosco solo io Non conosce altri youtube Conosce altri youtuber Assolutamente E quindi ve li posso portare solo io Quindi iscrivetevi al canale Allora Siamo pronti 3 megacassi Non ci dimentichiamo che abbiamo altri 5 brobox Direi Tu con l'anulare Si gioca si gioca si gioca si gioca si gioca si gioca ragazzi Si gioca ragazzi si gioca si gioca ragazzi si gioca sei pronto? Col pollice vai Col pollice vado io Col pollice in 3 2 1 Col pollice raga clicchiamo Non ci credo raga non ci credo no no non va bene Non va bene aspetta 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 ultimo box ultima megacassa con migliori no no col migliori calcola che io sto con le infradiette con quale però col pollice del piede fai che puoi puzza il telefono no non fai no no i miei piedi non puzzo siamo pronti raga col pollice del piede raga 321 ho cliccato allora secondo te cosa ci sarà oddio che ci faccio un bro del leggendario visto che era aperto col pollice questi schifo col pollici li devi fare col pollice sicuro andiamo col vogliamo andiamo col pollice andiamo col pollice raga qual è il problema io vorrei un corvo corvo oppure fighter corvo o fighter raga siamo pronti siamo pronti vado 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 andiamo avanti allora abbiamo boh abbiamo è il primo abbiamo molti abbiamo colt abbiamo leone che pronto consiglio 3 2 1 e vai con lo schifo che sta succedendo che sta succedendo allora registrati come si fa come si fa registrare video con consiglio raga è una suda ho perso già più o meno mezzo di lo l'ho perso è mezzo che lo è il mezzo di l'ha quanti ball abbiamo cinque bro box cinque bro box con c'è una mano mi uscino una ma è difficile stai pretendendo troppo stai prendendo troppo allora ci andiamo a fare assedio 3 2 1 c'è ancora la fanno andiamo avanti allora vi skip jesse mamma mia se ce n'esce un altro mamma mia se ce n'esce un altro caccia c'è un altro caccia c'è un altro vai mo allora aspetta gli ultimi tre deliferi clicca più di qua perché qua c'è no qua ci ho messo il pollice del piede consigli 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 di vendere vai consiglio vai abbiamo tic abbiamo rosa va bene ultimi due aspetta se facciamo sempre col mignolo del piede ok vado e niente 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 vabbè dai allora resoconto dei brawler che abbiamo trovato vediamo 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 il signor genietto che lo possiamo già andare a potenziare direi vai 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 eugenio a livello 2 va bene signorina piper che ovviamente non la possiamo potenziare guarda che bella animazione che l'hanno cambiata mamma mia raga spettacolare ragazzoli questo video con consiglio è stato davvero epico ve lo ribadiamo di nuovo quanti mi piace dobbiamo superare 50.000 like ci dobbiamo arrivare ci dobbiamo arrivare per forza ragazzoli 50.000 mi piace ritornerà la ruota dello shop con consiglio il video sarà assurdo vi ho detto tutto iscrivetevi al canale cliccando la campanellina se non l'avete ancora fatto perché manca poco per il mezzo milione di iscritti di caso san e qui da caso san e da consiglio però voglio ricordare una cosa questi contenuti per voi solo caso san ce l'ha è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao ciao